Musica Bella a tutti ragazzi sono Zanzo bentornati nel mio canale oggi siamo nel 17esimo episodio della serie principale di Minecraft seconda stagione e nell'episodio di oggi visto che lo scorso episodio abbiamo trovato tutto, tutto quello che c'era di nuovo che si poteva trovare l'abbiamo trovato incredibile abbiamo trovato l'avamposto dei pillager abbiamo trovato la nuova zona col portale abbandonato abbiamo treadato coi pigli all'interno del nether abbiamo trovato gli slime nell'episodio di oggi volevo tornare ancora un po' nel nether ragazzi per recuperare sicuramente la glowstone e guardarmi intorno per vedere magari se ragazzi trovavamo una fortezza perché comunque non dimentichiamoci che il nostro obiettivo di questa serie è uccidere l'ender dragon e soprattutto perché poi grazie alla glowstone inizierò a farmi un po' di glowstone lamp e sostituirò tutte queste torce bruttissime messe giù così che a me fanno decisamente schifo sono anti estetiche e non mi sta bene come cosa allora prima di andare nel nether però scendo un attimo nel magazzino mi è venuto in mente adesso e recupero un po' di frecce perfetto non volevo far questo ok recupero un po' di frecce ne ho pochissime tra l'altro ne ho solo 16 vabbè 15 frecce poi dopo quando ci facciamo ragazzi con calma il mob spawner in uno dei prossimi episodi avremo drop a volontà quindi ho solo 8 di cibo scendo un attimo nella fan di mucche a recuperare del cibo perché le ho appena uccise prima di iniziare questo episodio sentitele come muggiscono fanno ok allora abbiamo queste 30 si qua abbiamo la pala con silk touch che abbiamo trovato nell'ultimo episodio e direi che posso anche momentaneamente lasciarla a casa onde evitare di perderla nel nether vabbè comunque prima di andare nel nether volevo costruirmi una piccola zona degli incantesimi lì visto che ho un po' di pelle dei libri ah non ho recuperato attenzione le canne da zucchero vado alla fan di zucchero ecco nello scorso episodio non so se vi ho fatto vedere che ho costruito ste colate di lava per rendere la zona un po' più bella e tanta roba mamma mia ci facciamo un po' di carta 63 poi ci facciamo libri a manetta 31 torno di sopra quindi 36 libri con 36 libri iniziamo a farci un po' di librerie poi magari vado un attimo ancora qua in giro a recuperare della pelle e dell'altra canna da zucchero così riusciamo a finire magari la nostra zona degli incantamenti allora io direi utilizzo il birch perché tanto non lo uso mai allora 12 librerie torno un attimo di sopra madonna non sono ancora abituato a prenderlo bene sto robo ok ho fatto un bel pisolino recupero questo allora momentaneamente ragazzi lo metto qua ma è una cosa momentanea non vi preoccupate allora vediamo se io lo piazzo qui e metto 1 2 3 1 2 3 proprio così alla spartana al vecchio vecchio modo così facendo io posso incantare fino al 24 quindi mi servono altre librerie ergo mi serve altra pelle e soprattutto mi serve beh a canna da zucchero dovrei avercele per farmi le pagine mi serve comunque altra pelle vado a uccidere qualche mucca che c'è qua in questa zona si diciamo è efficiente la farm di mucche ma è lenta ci mette un po' avessi looting non sarebbe così difficile recuperare dove pensi di scappare dai non mi ha dato la pelle infame ci hanno dato due di pelle solo la prima oi e loro? ho paura che vadano a rompere le palle ai nostri amici villageri vabbè dai attiriamo la loro attenzione quanto sono scarci questi raga ok volevo cercare una mucca più che altro prendere del latte berlo e togliermi il marchio dei pillager avevo trovato un milione nello scorso episodio di animali tra mucche pecore e così adesso non c'è più niente vieni qua gina dammi il tuo latte fammelo bere perfetto per il momento io riesco a farmene 5 con questo se no devo andare a casa e aspettare che crescano le mucche e quindi ritardare la registrazione un po' di questo episodio non è un problema perché tanto oggi ho tempo però se trovassi delle mucche qua in zona almeno potrei iniziare a incantarmi le prime cose vabbè ragazzi recupero cerco un po' di mucche recupero quello che mi serve altrimenti ci vediamo direttamente a casa mentre attendo che le mucche diventino grandi one shot eh guarda qua quante ce ne sono vedete raga che mi ricordavo già tecnicamente con queste 14 dovrei essere a posto quindi io direi che posso tornare anche verso casa se nel percorso verso casa trovo delle altre mucche le uccido per sicurezza però con queste 14 pelle sono 14 libri 14 libri sono 4 librerie e dovrei arrivare a livello 30 ci ricolleghiamo appena arrivo a casa come non detto ho incontrato subito delle mucche così siamo sicuri al 100% di tornare a casa con tutta la pelle necessaria ok quindi ragazzi taglio ci ricolleghiamo quando sono già direttamente a casa perfetto quindi abbiamo il crafting table già qua ci facciamo i libri ok recupero l'armatura così adesso la incantiamo direttamente metto giù le ultime 6 librerie che erano giusto giusto quelle che mi mancavano ok mi sono dimenticato i lapislazuli mannaggia me allora acqua affinity protection 4 e un breaking 3 tanta roba blast protection 4 e un breaking 3 protection 3 e basta male questo poteva andarci meglio un breaking 3 protection 4 e depth strider 3 non mi ricordo che cos'è depth strider ragazzi me lo scrivete nei commenti la nostra armatura la abbandoniamo qua e ho 28 livelli 28 livelli sharpness 3 conviene o aspettiamo no facciamo così aspettiamo di tornare dal nether che magari abbiamo qualche qualche livello in più ci facciamo direttamente l'incantesimo da livello 30 allora scendo qua sotto lascio giù i lapis che tanto adesso non mi servono la golden shovel nel nether non mi serve quindi la lascio giù questo qua lo porta dietro andiamo nel nether e affrontiamo l'inferno ok siamo belli bardati andiamo se c'è gente comunque è bruttissimo sto spawn raga dovrò metterlo in safe in security per forza intanto scendo verso il basso con la scaletta che mi ero fatto poi ero andato di qua ok andiamo su di qua poi qua scendiamo la madonna che è distesa di lava gigante ma sei fuori tra l'altro scrivetemi nei commenti scrivetemi nei commenti se col nuovo aggiornamento del nether è possibile dormire nel nether perché se non ho capito male col nuovo aggiornamento del nether si può creare tipo uno spawn anche all'interno del nether la prima stagione con la seconda sono abbastanza simili come esperienza perché nella prima stagione l'avevo iniziata e il nether doveva essere ancora aggiornato poi mentre giocavo la prima stagione hanno fatto l'aggiornamento del nether mettendo tipo i blocchi nuovi no? come il magma block e tutte queste cose qua brutto comunque eh sta zona perché ci sono colate di lava ovunque ovunque non ci sono delle zone aperte da poter girare sei scarso smettila smettetela siete scarsi scarsi ma zonna smettetela non sono più bardato di ferro e basta cioè adesso vi scasso vi scasso di mazzate proviamo a scavare dritto per dritto vediamo dove finiamo wow altro fiume di lava fantastico che fortunello che sono in sta stagione è un gust quello che sento dai non ci voglio credere ancora distese di lava ma basta cioè guardate che sfiga sono in mezzo a un lago di lava two hours later oh nuovo bioma raga lo raggiungiamo? lo facciamo altezza lava perché se ci cadiamo dentro almeno non riusciamo a tornare su sperando poi di non morire che figo si spaccano con l'accetta questi chi è? what? no questo qua mi picchia oh oh mattina ma non è duro da uccidere che figo è sta albero oh no vabbè raga bellissimo e quella roba lì che cazzo è? netherworld block e il crims crimson crimson stem questa là se la rompo ah me la dà crimson neilium no no che figata quante robe hanno aggiunto raga che bomba lo porto tutto a casa io madonna com'è duro mi sa che si prende con il non si il touch ah no è quello lì shroom light ah è le lampade fatte di fungo mi ha droppato anche queste robine qua si che cosa sono? whipping vines ah ma ma che cosa sono belle magari a casa la possiamo usare per fare qualcosa di figo che figata bellissimo non l'avevo ancora vista troppo bella mi piace un sacco e qua ce n'è dell'altra c'è un'altra zona andiamo a vedere qua sopra madonna crimson fungs e questo sarà l'erba che però oh me la droppa molto bene recupera tutto prendi 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 miniatura tac opla ma questo legno qua se lo piazzo nel mondo normale resta piazzato o tipo mi si rompe perché non è nel nether o magari devo piazzarlo solo su questa terra e questo è uno dei nuovi che hanno aggiunto perché non è tutto cioè ne hanno aggiunto degli altri che figo che figo mamma mia raga vedete qual è anche il bello di non spoilerarsi nulla degli aggiornamenti cioè che poi quando li vedi sono una roba sensazionale mamma mia what the fuck ho trovato un altro un'altra roba abbandonata protection 2 ma se gli do questo vediamo cosa mi da in cambio tanto mangio in cambio vuoi la tua morte poi questo blocco qua si può rompere si ce lo portiamo tutto a casa ce lo portiamo tutto a casa cioè raga sta diventando il giocone della vita magari la zona della torre quella dove c'è il nether la facciamo tutta con questi materiali qua io questi funghetti qua allucinogeni me li porto tutti via è gigante tra l'altro il bioma cioè io pensavo fosse una zona minuscola invece madonna come è grosso no vabbè raga una fortezza dentro al nuovo bioma cioè video della vita questo dunque potevano farli ok cattivi ma che una volta tradata la prima volta basta diventavano pacifici adesso mi sa che il nostro scudo ci serve ok allora vediamo qui cosa c'è ah ricopriamo un po' di blaze road che fai nasci e non mi avvisi ok siamo a tre no però sono il pigman sono un coglione sono un coglione sono un coglione sono un coglione mamma raga sono un disastro siamo un po' nella cacchina spegni spegni touch to walk si guai è una fortezza ma non c'è nulla in sta fortezza ah eccola qua la nostra fortezzina finalmente allora diventavano gli scheletri proviamo ad andare di qua tra l'altro se trovessi se dovessi trovare delle ceste ho comunque l'inventario pieno io ah devo tornare a casa devo tornare a casa perché qua è pericolosa la situazione devo svuotarmi l'inventario e poi tornare quando quando sarò un po' più bardato per sbaglio non è che mi droppasse una testa del wither non è che mi farebbe proprio schifo pericolo controllala dimmi se ti piace se ti piace dammi qualcosa se non ti piace ti uccido scegli te buttiamogliela lì così lui si distrae ah si scusa è vero è enorme sta cosa è enorme sella mi serve la sella finisco di saccheggiare un attimo queste chest golden horse armor un'altra sella è la golden horse armor la porto via altre chest magari è gigante sta fortezza altro che è solo qui piccolina minuscola eccola spero io ma volete darmi una testa del wither che vi ho già ucciso in 70 what poi mi ricollego dove ero all'inizio e un altro posto ancora guarda che bella clauston sarà la recupero però va bene io direi a sto punto che per il momento potremmo anche tornare verso casa onde evitare di morirci con tutto questo inventario fantastico quindi devo prendermi lo screen delle coordinate di casa raga non vi faccio vedere il viaggio retroso mi fermo nel caso in cui dovessi trovare qualcosa di interessante se no ci ricolleghiamo direttamente vicino al portale va bene meno 106 7035 quindi in poche parole io devo andare di là ma tu da dove sei arrivato sarai caduto dall'alto testa del wither l'ho vista l'ho vista eccola qua togliamo un attimo qua le coordinate testa del wither testa del wither cosa butto via cosa butto via magma cream via frega il cazzo yes e adesso devo per forza tornare a casa perché ho una testa del wither già è difficilissimo trovarle quindi devo trovare un modo per scendere spostati dal bordo ma che problemi avete uè normale che me ne sono accorto questi qua mi fanno il solletico praticamente quindi non mi preoccupo più di tanto scendiamo giù e ci ricolleghiamo quando siamo al portale questo è il nostro ponticello perfetto quindi stiamo andando nella direzione giusta vanno come rallenta sulla soul sand non ci ho messo neanche tantissimo top questa è la nostra zona iniziale messa in sicurezza dai 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 qui eccolo qua il nostro portalino wow ok entriamo dentro perfetto dormiamo incantiamo un attimo la spada lapis non ne ho allora si stiamo un attimo prima di tutto nel magazzino questo episodio qua verrà di centomila minuti lo riparo e costa però sei se io faccio così mi costa uno due perfetto prendo questi vado di sopra sharpness 4 knockback 2 e looting 3 mamma mia mamma mia mamma mia ma ma mia ripariamo stack anche questo mi serve nei prossimi episodi lo faccio per forza mi sa che vado nel villaggio quello dove c'erano i villageri non mi sono buggato sto dicendo vado nel villaggio dove c'erano i villageri perché almeno mi inizio ad allenare per bene i villageri in modo da avere mending perfetto ragazzi questo 17esimo episodio della serie principale di minecraft termina qua super mega episodio nel nether abbiamo trovato la fortezza abbiamo trovato uno dei nuovi biomi abbiamo portato a casa un sacco di materiali nuovi scrivetemi nei commenti come utilizzarli al meglio mi raccomando come utilizzarli comunque per migliorare quella zona del castello lasciate un bel mi piace se raggiungiamo 500 like domani un nuovo episodio della serie principale iscrivete al canale se ancora avete fatto noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi video qui da Zonzo è tutto un bel saluto e perla